Gentili telespettatori, buona giornata. C'è ancora qualcuno che crede alle favole, no? L'ex sindaco PD di Lodi, Ugetti, dice io sono stato assolto ma ancora aspetto la Schlein che mi telefoni. Oh mamma mia, aspetta che la Schlein... aspetta e spera che poi sa vera... Ma cosa ti aspetti la telefonata della Schlein? Quella è impegnata a scappare quando deve presentarsi in Parlamento, deve... Ecco, insomma, ma cosa ti aspetti la telefonata della Schlein? Ma pensate veramente che la Schlein sia un vero politico? Che stia lì a pensare all'ex sindaco Ugetti, gli telefono perché lo hanno assolto, allora adesso riceverò la telefonata del capo politico e mi dice bravo, lo sapevamo! Ma dai, ma dai, ma per favore! Ma cosa ti aspetti la telefonata? La telefonata di chi? Ma dai! L'ex sindaco dice sono per l'abolizione dell'abuso d'ufficio, non possiamo lasciare questa battaglia alla destra. Eh? Il problema è chi abolisce l'abuso d'ufficio? Se lo fa alla destra va benino, ma era meglio che lo faceva alla sinistra. Ma rilassati, ma rilassati, sempre tutto da incasellare a destra o a sinistra. Tolgono l'abuso d'ufficio. E basta, sì, felice, non rompere. Ecco. Il PD dice a tante anime, ci sono garanti come Gori, De Caro, Ricci. Il PD ha tante anime. Cosa vuol dire? Che il PD ha tanti partiti all'interno dello stesso partito. E il giornalista dice, ma scusi, lei, ma aspetta ancora la telefonata della Schlein? Eh sì, ma dopo la mia assoluzione, arrestato per un'inchiesta giudiziaria che si è conclusa dopo sette anni con l'assoluzione, avevo detto a un giornale che mi sarebbe piaciuto ricevere una sua chiamata. Ma perché? Ma perché? Lei aveva fatto sapere che l'avrebbe fatto. Quindi lui è dispiaciuto che la capa non gli ha telefonato. Ma quella non ci ha neanche pensato. Ma quella sta pensando ai fatti suoi. Dal 20 giugno ad oggi però il telefono è rimasto muto. E cosa vorrebbe dirle, dice il giornalista? Mi piacerebbe spiegarle cosa è successo con la giustizia a me e a molti amministratori. Vorrei che il PD avesse una linea più laica e autonoma. Quindi lui vorrebbe ricevere la telefonata del capo perché deve mettersi lì a spiegare cos'è la giustizia. Figuratecivi quell'altra quanto ha voglia di star lì. Se. Se. Certo, certo, se. Se. Se, 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 se. Se. Ve la immaginate? La Schlein che deve sorbirsi la telefonata di questo che gli racconta cos'è la... E poi questo che gli chiede alla fine dovete essere voi a far cancellare l'abuso d'ufficio, non farlo fare alla destra. Ma quella invece si oppone perché lei, la Schlein, dice che l'opposizione significa opporse tutto quello che vuole fare il centro-destra. Quindi se il governo vuole abolire l'abuso d'ufficio lei lo vuole lasciare. Capite un po'? Se il centro-destra lo vuole lasciare lei lo vuole abolire. Quindi sentirsi l'ex sindaco che gli fa la ramanzina. Eh ma voi dovete... Quella se. Se. Scusa, devo andare, guarda, mi chiude la posta. Che tristezza, che tristezza. Naturalmente il sindaco che per sette anni, l'ex sindaco per sette anni in tribunale è poi assolto per un abuso d'ufficio dove si assolvono quasi tutti vuol dire che c'è qualcosa che non va. Certo qualcuno dice ma non è che puoi cancellare l'abuso d'ufficio perché ci sono solo 18 condanne su 5.000 sindaci in tribunale. Sono d'accordo che non è che se c'è un reato dove vengono condannate poche persone allora lo cancelli. Non so, se di omicidio ce ne sono pochi in Italia fra qualche anno allora cancelli il reato perché ci sono poche condanne. No, non è questo il punto di cancellare un reato con poche condanne. Il punto è che se ci sono 5.000 processi e solo 17 condanne c'è qualcosa che non va. Se ci fossero 30 processi e 17 condanne non c'è niente da dire. Ma quando ce ne sono 5.000 di processi, 5.000 ex sindaci in tribunale e 17 condanne lo 0,0 qualcosa vuol dire che c'è qualcosa da cambiare. Con questo credo che converrete tutti. Vuol dire che c'è qualcosa da cambiare, da modificare. Dato che il reato di corruzione c'è già, non è che cancellando l'abuso d'ufficio cancelli il reato di corruzione. Se tu sei un sindaco corrotto finisci lo stesso in galera. Non è che togliendo l'abuso d'ufficio tu non finisci più in galera. Perché il reato di corruzione c'è sempre. Ma quella variante con l'abuso d'ufficio fa sì che ci siano 5.000 ex sindaci in tribunale e poi sono quasi 99,9 periodico sono tutti assolti. Capite che ha ragione il centrodestra? Io ve lo dico sempre con delle spiegazioni. Non è che difendo a priori il centrodestra. Ma oggettivamente vi dico che sull'abuso d'ufficio c'è qualcosina che non va. Più di qualcosina che non va. Bene. Naturalmente questo ex sindaco dice il PD deve riconoscere che anche i magistrati sbagliano. Ma come fa il PD a riconoscere che i magistrati sbagliano? Da una parte della magistratura arrivano dei bei aiutini. Ci sono degli aiutini al PD ogni tanto, più di ogni tanto. Come fa il PD a mettersi contro e dire che qualche magistrato sbaglia? Anche tu ex sindaco vuoi ricevere la telefonata della Schlein? Vuoi dirgli che deve essere d'accordo per abolire l'abuso d'ufficio? Vuoi dirgli che devono dire pubblicamente che anche i magistrati sbagliano? Insomma, per chi hai preso la Schlein? Per un politico di un certo livello? Ma dai, su. Ecco, quindi, caro Simone Ugetti, mettiti il cuore in pace. Quella lì non ti chiamerà mai. Mai e poi mai. Ma fa niente, guarda, non è che stai dicendo che la telefonata di un grande statista, di un grande personaggio, di un capo politico temporaneo che già vogliono cambiare perché va in giro a dire come se fosse Antani. Ecco, quindi, lascia perdere Ugetti, non ti umiliare, non ti umiliare, aspettando che squilli il te... Ah, non è lei. Aspettavo la chiamata. Ah, non è lei. Ma smettila, dai. Un po' di orgoglio, eh. Un po' di orgoglio la telefonata dalla Schlein. Ma anche no. Io bene, vi ringrazio per questo ultimo video della giornata. Ci vediamo tra una ventina di minuti. No, c'è una ventina di minuti. Ci vediamo domani, domani mattina, per la rassegna stampa. Grazie nuovamente e ci vediamo presto. Ricordatevi che poi c'è anche Tele Italia Seconda Rete e questi video sono condivisi su Facebook. Arrivederci a tutti e grazie. Grazie.